Gigi Parinelli, allenatore dell'Allianz Udas. Allora, siamo arrivati adesso a questo finale di prima parte di stagione. Adesso avete questa trasferta difficilissima contro l'Invicta Brindisi. Va bene che è una squadra che non ha più nulla da chiedere, ma evidentemente non è da sottovalutare così come altre formazioni. Sì, sicuramente in teoria la partita è semplice, visto che sono già reprocessi. Però sicuramente vorranno fare bene l'ultima partita in casa davanti al loro pubblico. Ma soprattutto noi dobbiamo pensare a noi stessi, a stare lì con la testa e non sottovalutare l'incontro, anche in vista dei play-off dopo due giorni. Tra l'altro i play-off, che ormai è la prima partita in casa, martedì, quindi subito affronterete l'Altamura. Non lo sappiamo ancora. Dovrebbe essere così, 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 così. In teoria penso che Ruvo comunque non riesca, cioè nel senso meglio, Vieste penso che non si lascia sfuggire il secondo posto e quindi vada a Ruvo a vincerla. Di conseguenza noi, vincendo anche noi a Brindisi, come hai detto bene, dovremmo incontrare l'Altamura, che abbiamo affrontato un paio di settimane fa. Tra l'altro l'Altamura ha fatto un colpo l'ultima partita a Vieste, ciò significa, ma già lo sapevamo, che comunque ha un buon roster ed è in grado, soprattutto su una partita secca, di mettere in difficoltà chiunque. Senti, come avete passato la settimana, Gigi? La settimana, a differenza di quella scorsa, molto bene, perché ci siamo allenati sempre in dieci, anzi anche in dodici, ci siamo allenati davvero bene, quindi diciamo da questo punto di vista sono molto tranquillo e contento di quello che abbiamo fatto. Quindi sostanzialmente sono tutti disponibili per la partita di domenica? Sì, tutti disponibili, abbiamo l'ultima rifinitura, diciamo la facciamo in mattinata, per il resto. Grazie. Grazie a te. Perfetto. Finalmente questo...